Questa ricetta l'ho messa proprio a punto con lo chef Andrea Miceli ed è un modo goloso e curioso di presentare le lenticchie o comunque i legumi attraverso la preparazione con una spuma di parmigiano reggiano. Ecco che qui ritorniamo al discorso dell'equilibrio, molti pensano che i latticini vadano depennati dalla propria alimentazione e invece nelle giuste quantità possono far bene perché in questa preparazione abbiamo in totale meno grassi di un cucchiaino di olio quindi molto più golosa come preparazione di lenticchie ma anche molto leggera, anzi ricca di sostanze nutritive. Allora andiamo a vedere insieme ad Andrea come prepariamo questa ricetta. Prepariamo innanzitutto la base per la crema di parmigiano reggiano che sarà fatta con cavolfiore, acqua e parmigiano reggiano. Io consiglio quello stagionato 36 mesi, mi piace molto di più. Tra l'altro il parmigiano è uno dei formaggi meno salati perché ha solo l'1,5% di sale mentre in genere i formaggi stagionati vanno dal 3 al 4 o anche al 5%. Quindi andiamo a frullare molto bene il cavolfiore cotto nella stessa quantità di acqua quindi 50 grammi di cavolfiore e 50 grammi di acqua lo cuciniamo per circa 5 minuti, lo frulliamo bene con il parmigiano in modo da ottenere questa bellissima schiumetta che assomiglia a quella del cappuccino. Quindi qui abbiamo una preparazione salata, non è per la colazione, può essere un antipasto o magari in una porzione un po' più grande può essere addirittura un primo piatto. Le lenticchie come le cuciniamo? Abbiamo fatto un soffritto con un cucchiaino di olio, con sedano, carota e cipolla dopodiché andiamo Andrea, che cosa hai pensato per insaporire alla grande queste lenticchie? Per insaporire le lenticchie abbiamo messo un piccolo buco aromatico con maggiorana, finocchietto selvatico, alloro, del rosmarino, lo lasciamo dentro fino a fine cottura e poi basterà toglierlo e frullare molto bene le lenticchie. Ricordiamoci che le lenticchie non hanno bisogno di un ammollo quindi sono molto molto facili da cucinare e andiamo ad aggiungere per la quantità di 200 grammi di lenticchie soltanto 3 grammi di sale iodato e la porzione è per 4 persone. Quindi una preparazione semplicissima, dopo mezz'ora di cottura delle lenticchie frulliamo molto bene e questo ci aiuterà a digerire meglio i legumi e quindi a renderli molto molto digeribili e andiamo a quindi decorare con la spuma di parmigiano reggiano e cavolfiore e poi una bella spolverata di cacao e il gioco è fatto. Allora Chiara, a questo punto ripetiamo questa ricetta con gli ingredienti. Perfetto, allora per 4 cappuccini 200 grammi di lenticchie, sedano, carote, cipolle a volontà per fare il soffritto un bucchè aromatico di rosmarino, timo, finocchietto, maggiorana, le erbette che abbiamo in casa 50 grammi di cavolfiore, 50 grammi di acqua, 50 grammi di parmigiano stagionato 36 mesi. Grazie, grazie Chiara. Ricordiamoci, anche il cacao alla fine.